eccoci con un nuovo libro da presentare ripensare ustica del professor claudio pizzi questo libro che vi presento non l'ho in effetti finito completamente di leggere ma è talmente bello talmente ricco di pensieri di osservazioni di analisi degli eventi che è un peccato non conoscerlo per poterlo comprare il professor claudio pizzi è stato professore di logica e filosofia della scienza per 17 anni all'università di siena ed è stato anche per quattro anni professore a un tenevo il corso di logica della prova una facoltà di giurisprudenza dell'università bicocca di milano il professor claudio pizzi è un filosofo della scienza un epistemologo parola difficile allora perché ho voluto presentare adesso questo libro pur non avendolo finito di leggere e mi manca la terza parte perché c'è dentro un'intera analisi della vicenda riferita a ustica ed è un'analisi che è talmente fatta bene che qua non si può dire ha spaccato il capello in quattro ma si deve dire ha spaccato il capello in otto e forse anche sedici perché ha nella sua esposizione ricca di collegamenti ricca di osservazioni di considerazioni il professor pizzi è insegnante di logica e tra parentesi e in questo libro la logica c'è tutta quindi il mio consiglio innanzitutto è quando lo si legge di avere vicino un computer un pc e avere il block notice un evidenziatore e la penna per prenderli appunti perché le sorprese che stiano leggendo questo libro sono infinite per esempio ne dico una Semerari nome che a molti non dirà nulla probabilmente era un criminologo Semerari e pure lui citato in questo libro e quindi c'è anche dei risvolti che si potrebbero dire definire un libro giallo non è un libro giallo in realtà è un libro molto anche tecnico molto preciso e quando lo si legge rapisce se voi provate a aprirlo anche una pagina a casa iniziate a leggere non vi fermate più questo libro è stato pubblicato nel 2017 lo si trova solo su Amazon in libreria difficilmente io non l'ho comprato su Amazon per cui su Amazon di sicuro c'è insieme anche a altri libri anche altri libri che con questo non hanno niente a che vedere anzi questo è una pietra miliare secondo me assieme anche a altri libri che sono stati pubblicati poi in seguito mi riferisco anche a libri di Bonazzi, Farinelli e di Bordoni e prima ancora c'è stato il primo libro quello che ha dato un po' il via il libro di Goran Lilia Ustica il mistero e la realtà dei fatti sono libri che ho già presentato durante i miei video questo libro è diviso in tre parti appunto a me manca la parte che è riferita alla Libia all'ipotesi che ci sia un coinvolgimento della Libia dietro questa storia è molto interessante il simbolismo lo studio del simbolismo e anche lo studio delle date che viene collocato non vengono considerate semplici coincidenze ma hanno dei significati le date di riferimento che vengono esaminate ed è veramente un per dirla a breve è bello è molto bello non tolgo nulla agli altri che agli altri libri che ci hai dato prima ma ha un lato più anche di filosofia di considerazioni un investigatore forse non riesce a fare la stessa cosa se il professor Pizzi fosse stato un giudice e avesse usato questo metodo molto probabilmente non saremmo a pensare dopo 40 anni che cosa può essere successo quella sera il professor Pizzi ha pubblicato un successivo libro nel 2020 che si intitola Ustica 40 anni dopo riflessioni su un caso aperto sono due libri che bisogna secondo me avere entrambi Ustica 40 anni dopo è più piccolo come libro è a 150 pagine questo qui ne ha 130 in più questo ne ha 284 quindi è molto più corposo ed è anche più impegnativo da leggere proprio per i motivi che dicevo prima perché c'è ma anche negli altri ci sono tutti i libri hanno i riferimenti che mandano a link o a riferimenti su internet libro Ripensare Ustica ha un taglio anche se vogliamo investigativo e tutto viene esaminato da tutti i punti di vista vengono escluse vengono fatte ipotesi vengono escluse le ipotesi e viene spiegato perché l'ipotesi non regge quindi questa è una cosa che è anche una bellissima forma di ragionamento di come si pensano le cose e sarebbe un libro che chi anzi non sarebbe è un libro che chi vuole saperne di più su Ustica e avere un un altro punto di vista su questa verità che ancora chissà che chissà mai se verrà fuori questa verità comunque da un altro punto di vista che fa capire che quella verità che si dice tanto la conosciamo tanto l'abbiamo manca soltanto come che dicono loro la bandierina manca il nome bene evidentemente quella bandierina questo libro potrebbe anche suggerire che colori può avere ma non è detto non è detto perché è talmente complicata questa storia che potrebbero esserci anche delle sorprese nella evoluzione nel corso degli anni comunque è un libro molto raccomandato a tutte le persone che si sono stancate di sentirsi dire nella verità la conosciamo buona lettura grazie a tutti